L'Italia sembra un paese sul loro del fallimento, questo per colpa delle scelte fatte dal governo attuale. Io sono un uomo del popolo, non rappresento alcuna categoria, alcuna associazione. Io credo che l'attuale governo sia incivile. Lo reputo incivile perché secondo me non rispetta gli imprenditori, non rispetta le persone, non rispetta i cittadini. La mia categoria, quella dei bar e dei ristoranti, è di fronte ad una morte assistita. Insomma facciamo fatica a guardarci indietro, sembra impossibile guardare al futuro ma soprattutto ci fa molta paura, ma davvero molta paura il presente. Non riusciamo ad avere nessuna programmazione e vediamo la parola fine molto 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 vicina. Prima o poi il blocco dei licenziamenti terminerà, prima o poi la cassa integrazione terminerà e sarà una vera e propria catastrofe. C'è bisogno del famoso anno bianco, è una necessità, ma più di questo c'è bisogno di riaprire, di far ripartire assolutamente il nostro paese. Io apro, ho iniziato venerdì, quindi cinque giorni fa, sta andando avanti e si sta organizzando anche con altre categorie. Da molti mesi non si fa altro che contare i tamponi, i tamponi, i tamponi. Il mio timore, il nostro timore è quello che tra qualche mese bisogna raccontare i cappi al collo e questa è una cosa che secondo me non ci possiamo assolutamente permettere. Quindi riapri Italia, Italia riapri, è assolutamente una necessità in questo momento.